Borgo San Dalmazzo, il Pedona batte 2-0 il Busca e passa al secondo turno di Coppa, siamo in compagnia di Capitan Marco Dalmasso, autore tra l'altro della seconda rete, allora un commento su questa gara sicuramente molto molto bene questo Pedona oggi, in particolare nel primo tempo. Sì, sono molto contento per la partita perché siamo partiti forte, era quello che volevamo fare, iniziare subito bene la partita, metterli in difficoltà attaccandoli alti, siamo riusciti a passare subito in vantaggio e chiudere il primo tempo 2-0 ci ha dato una grande mano oggi, una bella prestazione. Ottimo l'approccio nel primo tempo, tanta aggressività, insomma questo era comunque uno scontro fra due squadre che si candideranno a un ruolo importante, quindi aver fatto bene, non aver preso gol in due partite e essere passati sicuramente penso sia importato. Certo, certo, è un risultato che ci dà grande soddisfazione perché appunto contro il Busca che ambirà più o meno, avrà i nostri obiettivi in questa stagione, è un buon segno, speriamo di continuare così. E poi è arrivato un tuo gol, anche di ottima fattura. Sì, sono contento anche per questo, un bel gol per iniziare la stagione fa sempre piacere, speriamo sia di buona auspici. Adesso archivate questo antipasto della Coppa e c'è il campionato, fra una settimana, la frutta di Villarbasse, che partita ti aspetti e soprattutto che inizio di campionato sarà con tutte comunque anche queste incognite difficoltà fuori dal campo? Diciamo che poi giochiamo contro una squadra che è una neopromossa, non conosciamo, sicuramente avranno voglia di iniziare bene in casa questo campionato di promozione, sarà sicuramente una partita difficile perché in promozione partite facili, se sottovaluti in avversario non ce ne sono mai, quindi dobbiamo cercare come oggi di iniziare bene dall'inizio e cercare di portare a casa tre punti perché iniziare bene la stagione sarebbe molto importante e poi speriamo che non ci siano intoppi di altro genere, poter giocare a calcio e fare quello che ci piace.